E' una crisi istituzionale ai massimi livelli, quella scatenata stamattina dai primi tweet di Trump. Trump sostanzialmente rovescia lo scandalo che lo stava mettendo in difficoltà, il cosiddetto Russian Gate o Putin Gate, il fatto che tanti suoi collaboratori avessero avuto dei contatti sospetti e poi negati con l'ambasciatore russo a Washington, Trump lo rovescia contro il suo predecessore, lancia un'accusa di una gravità notevole nei confronti di Barack Obama, dice Barack Obama mi spiava, faceva dello spionaggio paragonabile al caso Watergate, il caso Watergate 1974, Richard Nixon, Presidente Repubblicano, dovette dimettersi per rischere l'impeachment dopo che aveva veramente organizzato uno spionaggio clandestino e illegale nei confronti dei suoi avversari politici del Partito Democratico. Naturalmente non è di questo che si tratta nel caso di Trump, è vero che Trump e alcuni suoi collaboratori erano sotto sorveglianza, è prassi consolidata che l'intelligence americana vigili su candidati alla Presidenza degli Stati Uniti che possano avere contatti con potenze straniere e proprio di questo si tratta, durante tutta la campagna elettorale diversi collaboratori autorevoli di Trump erano più volte stati contattati dall'ambasciatore russo, quindi le agenzie di intelligence, di controspionaggio facevano il loro mestiere, ma Trump sta cercando di divincolarsi da una situazione per lui politicamente difficile, perché anche dentro il Partito Repubblicano queste accuse di intesa con i russi non passano particolarmente lisce e ben accolte, lui ribalta tutto contro il suo predecessore lanciando contro Obama una accusa veramente devastante.